Ciao fratacchioni e fratacchione, a quanto pare il periodo di quarantena forzata è terminato e come promesso non sentirete più la mia voce, ma vi voglio lasciare con un'ultima intervista. Al bancone di Spacebar oggi si siederà Germana Stella, fotografa e modella, che ha deciso di presentarsi con questo brano. Al prossimo episodio 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 E' stato Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio